Poi comincerete a fare veloci Cosa vuol dire? E come si chiama questa roba? Non lo so Ciao guys! Oggi vi farò imparare una cosa col bicchiere, però plastica dura, non plastica quella la che si bevano. Ok, cominciamo. Allora vi farò imparare questo qua. Ecco. Allora, prima dovete fare uno, due. Uno, due, tre, quattro. Un altro. E poi spostate il bicchiere. Poi prendete. Ok. Poi bisogna fare... Fate prima così. Poi fate un po' più piano, cioè così. Se vi ricordate. Poi cominciate a fare... Se avete imparato, normale. Poi comincerete a fare veloci. Eh... Non lo so. Non lo so. Balla di bicchieri. Falla per tu. Tieni. Allora, prima cosa. No, 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 no. Allora, prima così. Sopra, sopra il bicchiere. Due volte. Eh... Due volte. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Allora, uno. Et voilà. Cosa dici? No. Così. Uno, due, tre, quattro. Vai, batto. E sposto. Poi battiamo di un altro. Prendiamo questo così. 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 E così. Ah, ok. No! Voilà. No! Allora, uno, due. Uno, due, tre, quattro. Poi batto. Poi prendo e sposto. Poi batto di nuovo. Faccio così, 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 così. Ok, ok. Ok, avrì più in parato ragazzi. Avrì più in parato.